Ciao ragazzi, voglio introdurvi il progetto Lemonade, il TOD del distretto Leo 108A. In poche parole questo progetto serve a riabilitare noi Leo bloccati da questa pandemia. Esiste un'espressione in inglese, When life gives you lemons, you make lemonade. Quindi non tutti i mali vengono per nuocere, ma noi preferiamo il sapore della limonata. Vi chiediamo di aiutarci fornendoci idee e azioni da completare tutti i giorni per aiutare la comunità. Qualche esempio, prendere la bicicletta al posto dell'autobus per ridurre i contagi, raccogliere la plastica durante una passeggiata, ordinare una pizza o un ristorante in difficoltà, lasciare una buona recensione su TripAdvisor. Come dovete fare? Noi vi invieremo un form, una specie di Google Moduli, dove scriverete le vostre idee. Scrivete più volte, non abbiate paura, a volte le idee migliori vengono nei momenti più strani, sotto la doccia, durante le lezioni all'università. Dopo, io Alfredo, selezioneremo le proposte migliori, creeremo una web app che consisterà in una ruota. Il socio farà girare la ruota e dovrà eseguire quell'azione. Bene, dopo ovviamente con l'ufficio comunicazione daremo risalto a queste piccole azioni tutti i giorni. Quindi vi aspettiamo, abbiamo bisogno di voi, perché ricordate, nessuno può fischiottare una sinfonia, ci vuole un'intera orchestra per riprodurla.